12esima giornata, incontro importante tra Checco dello Scapicollo e Steaua 2005 Ancora Shekali Sotrokan cade, gol incredibile! Una bomba a sorprendere tutti Lo Steaua va subito sotto, una cannonata Subito la conclusione che però impatta sulla retroguardia arancione Tanto in avanti, occasionissima, tiro! Tiringa, tanto mollica di prima intenzione verso Kojan Forse sperava in un rimbalzo venenoso De Simone, De Simone intercetta il pallone Una posizione buona e Kojan non interviene e subisce il gol Grave disattenzione di Kojan, ingannato forse dalla sfera Resa viscita dalla pioggia copiosa che sta cadendo sullo Stella Azzurra E ne ha approfittato l'attaccante del Checco dello Scapicollo Prova a tirarsi sullo Steaua, Shekali sulla sinistra Vilcu prova ad andare a pressare la difesa del Checco dello Scapicollo La Nardecchia però si difende De Simone, conclusione di sinistro E punisce ancora una volta Kojan Non c'è partita Fino a questo momento il Checco dello Scapicollo Tre gol Che mettono a sedere lo Steaua a 2.500 Assolutamente impotente Queste le capacità balistiche del numero 9 Lo Steaua parte Destro preciso ma Molon si supera Vola verso l'incrocio e nega la rete Al centro avanti dello Steaua Ma subito in avanti il Checco Kojan da solo e poi si fa mancare le forze all'ultimo Fa la data all'indietro verso Paglia Fa la data all'indietro a Galli Galli Verso Cuozzo Di prima intenzione Mollica verso la sinistra Conclusione Beffato Kojan per la quarta volta Un po' troppa poca concentrazione per l'estremo difensore rumeno E subisce il suo quarto gol Che probabilmente mette a sicuro il risultato per il Checco dello Scapicollo Del Checco dello Scapicollo Tilinga da fuori ci prova Ma Molon A differenza del Suo collega avversario è in gran forma Tutto pronto per il secondo tempo Passaggio all'indietro verso Tilinga Che si porta un po' in avanti Supera il centrocampo Prova subito la conclusione A sorprendere Molon Ancora Stegaro Peccato ovviamente per il risultato estremamente negativo Jai Jai controlla il pallone Attende un compagno di squadra Arriva Stegaro Stegaro può trovare lo spazio buono Serve Dogario Dogario contro Molon Serve Ottimamente Sulla sinistra E c'è Il Losteau a 2005 Che accorcia le distanze In avanti il Checco dello Scapicollo L'occasione buona per rialzare la testa E c'è il gol Imperioso Che seda Le possibilità di ripresa Finisce qui il match Dominio assoluto del Checco dello Scapicollo Non di certo la miglior partita Per la squadra di Moldoveanu Che accetta la sconfitta Per 5 a 1